Ciao amici portini e benvenuti qui sul secondo canale Sta tornando la Coppa delle Coppe Sta tornando la Coppa delle Coppe ragazzi Ma prima di iniziare però Vi invito a scaricare l'applicazione OneFootball La migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda le notizie sportive La trovate qua sotto in descrizione Mi sta dando una grossa mano per trovare queste notizie ragazzi La Coppa delle Coppe sta tornando Ma per qualcuno di voi che non sa che cos'è la Coppa delle Coppe Praticamente era una competizione degli anni 90 Che tra l'altro il Parma ha vinto Competizione che tra l'altro non è proprio degli anni 90 C'è stata per tanti anni Comunque è terminata diciamo nel 99 Con l'ultima a vincere dovrebbe essere stata la Lazio Se non ricordo male Nel caso comunque commentatemi qui sotto per dirmi No non è vero, non è assolutamente vero Però credo di essere abbastanza sicuro su questo Che cos'è quindi questa nuova competizione che sta tornando Effettivamente sarà la Coppa delle Coppe? No, non sarà la Coppa delle Coppe effettivamente O magari cambierà nome, magari daranno proprio questo nome Non lo so, io spero del ritorno della Coppa delle Coppe Ma potrebbe effettivamente cambiare nome Magari mettendo un nome molto inglese Molto English The Champion of the Champions Non so che ne so, una cosa del genere A parte tutto Che cosa si è deciso? Praticamente dal 2021 Dal 2021, quindi fra tre anni Ci sarà la possibilità di avere questa nuova competizione Che sarà la terza competizione dopo la Champions League Sarà appunto la terza competizione E andrà a prendere ben 96 squadre in totale In tutta l'Europa Andando ad alleggerire quella che è il carico dell'Europa League Che passerà dalle 40 e passa Adesso non ricordo in questo momento il numero preciso Squadre appunto per l'Europa League A 32 Quindi alleggerirà moltissimo l'Europa League Che diventerà una competizione magari un pochino più glamour Un po' più per le squadre altolocate Non so, comunque per le squadre più forti Eliminando qualche turno di preliminari Ok? Mentre appunto sarà una mega, diciamo Competizione Un mega polverone Non so come chiamare Un pentolone gigantesco di squadre Ben 96, capite che è un numero enorme Di squadre per questa nuova competizione Che sarà un misto tra quello che era l'Inter Toto E la Coppa delle Coppe In Coppa delle Coppe se non ricordo male Potevano partecipare soltanto le squadre Che vincevano la competizione nazionale Quindi l'Italia, non so chi vinceva la Coppa Italia Appunto chi vinceva la Coppa alle Fake Up Eccetera eccetera Questa invece credo che andrà a prendere anche le squadre italiane Prendiamo l'Italia Comunque in generale le squadre europee Che arriveranno dopo il settimo posto O visto che c'è questo taglio Probabilmente soltanto la quinta e la sesta Andranno in Europa League Mentre la settima e l'ottava Magari anche la nona Perché no? Potranno andare Magari a quei preliminari Potranno andare in questa nuova Coppa In questa Coppa delle Coppe Ok? In questa Champion of the Champion Ok? È una bella idea È una bella idea secondo me Perché Dà più stimolo Ok? Alle diciamo le competizioni Dell'Europa Perché è brutto avere soltanto queste due competizioni Dover sognare per forza di arrivare magari Almeno settimi Almeno sesti Per poter fare l'Europa League Quando magari hai fatto un ottimo campionato Vedi la Fiorentina Vedi la Samp Il Torino In questi ultimi anni Che comunque fanno degli ottimi campionati Ma non riescono ad arrivare in Europa League Non riescono ad arrivare ma tanto così Invece adesso potrebbero fare questa nuova competizione Che gli darebbe molto più lustro Darebbe la possibilità ai giocatori di giocare più partite No? Quindi facendo più turnover Insomma Dando più possibilità alle classifiche Cioè È inconcepibile che dalla settima Alla terz'ultima In Serie A Non c'è storia Non c'è competizione Non c'è niente È bello se almeno altri due Tre posti Possano dare maggior possibilità Di lotta Ok? Già la Non so Fino alla nona Può vincere Può partecipare a questa competizione Quindi è già la tredicesima Per dire che non è una squadrona Non in Serie A Però già la tredicesima Potrebbe dire Cavolo Pagare se fin con le ultime 4-5 partite Potrei ambire ad arrivare nono E quindi andare in questa nuova competizione Quindi crei molto più Diciamo gioco Molto più bello Poi dopo vedere La Serie A La Premier La Liga Eccetera Secondo me È un'idea fantastica ragazzi Poi io sono un amante appunto Di quello che era la Coppa delle Coppe L'Inter Toto Quindi Sono molto contento Di questa nuova competizione Che però vi ricordo Dovrebbe essere Dovrebbe partire Dal 2021 Ok? Dopo i mondiali in Qatar Comunque dovranno testare delle cose Comunque Dal 2021 Voi cosa ne pensate A riguardo Siete contenti Non siete contenti Siete scontenti Vabbè la stessa cosa Non sinonimo Comunque nel caso Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Sia al primo Che al secondo ovviamente Tutti i miei social Facebook Instagram Tutto qui A compagnia bella Mi raccomando Lo trovate qua sotto in descrizione Un saluto Ciao Dopodoro Lasciate tante 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 like Grazie a tutti